ciao nome leo questo il kit tastiere mouse wireless del km 636 un set perfetto per qualsiasi attività quotidiana estremamente leggero si presenta con un design elegante moderno che si adatta ad ogni postazione di lavoro sia essa da casa sia essa in ufficio la tastiera è piuttosto compatta assicura un ingombro minore sulla scrivania il massimo comfort in caso utilizzo prolungato i tasti sono come potete vedere a basso profilo e per questo motivo la digitazione confortevole è abbastanza silenziosa la tastiera è dotata di tasti multimediali quali consentono di regolare il volume della musica saltare i brani in avanti o indietro fare ricerche persino accedere alle funzioni del browser il mouse invece è leggero e si muove in modo fluido rispondendo con precisione ai movimenti grazie al piccolo sensore ottico di dell inoltre la rotella di scorrimento del mouse è stata ingrandita e questo miglioramento è stato fatto per migliorare la produttività la configurazione del set è molto semplice vi basta collegare al pc il ricevitore wireless usb e accendere i due dispositivi la distanza massima supportata di 10 metri spero vi bastino infine per quanto riguarda la batteria il set viene fornito con due batterie a e due batterie a che garantiscono una durata di circa un anno stando a quello che dice del potete trovare il kit tastiere mouse wireless del km 636 su bpm power.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione insieme a moltissime altre tastiere vi invito a supportare il nostro lavoro a mettere mi piace al video se è stato di vostro gradimento iscrivervi al canale se ci volete particolarmente bene questo set è adatto praticamente a chiunque voglia fare una postazione low cost ma con un piccolo occhio alla qualità ciao e alla prossima